... Allora, partiamo da qui, la posizione di campiglia è questa, mani chiusi in questo modo, il ginocchio che spinge verso il suo bacino, i piedi sempre vivi in questo modo qui, se sto così, io quando sposto il bacino e va via per entrare in guardia, io ce la faccio a spingere, se invece sto in questo modo qui, esce col bacino, sto sempre qui spingendo verso il suo e mettendo pressione, ok? Quindi chiudo qui la spalla che spinge verso di lui, questa gamba non sta qui, se si fa ponte da quella parte, vai a monte di là, a monte, a monte, a monte, a monte, a me ne vado via, ok? Quindi, piedi stanno in questo modo, ginocchio, questa gamba qui, questo qui, vai? Vai, 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 il petto è basso qui, non sto a oltre, non devo andare qui, se fa ponte dall'altra parte, ne vado anche dall'altra parte, quindi qui, vai, è una cosa, chi sta sopra logicamente non deve dire niente, sai che questo no, deve mandarlo via, chi sta sotto il bisogno, saldì così, che è murito!